Ben ritrovati, buon lunedì, buon Crypto Monday e buon Natale. Oggi puntata 52 di 52 con Coin360.com che ci fa vedere invece che rosso, ci fa vedere una schermata completamente in verde. Quindi andiamo sull'ultima settimana, sull'ultimo lunedì e sull'ultimo episodio dell'anno con una situazione molto positiva e un qualcosa che poi ci apre le porte del 2024, che ovviamente sarà un anno molto molto interessante per tutte le cose che abbiamo visto, che abbiamo analizzato fino adesso, in particolare in questo episodio che sarà un po' più corto del solito. Ci tenevo comunque a fare un episodio di chiusura per fare anche la 52esima settimana, ma nonostante questo andremo a vedere le due cose principali. Quindi parlando dell'evento che andrà a condizionare tutte le sorti del 2024, parlo ovviamente dell'approvazione dell'ETF spot su Bitcoin, ma non solo perché l'ETF potrebbe arrivare anche su Ether, su Ethereum quindi, e poi gli aggiornamenti che arriveranno proprio su Ethereum. Senza dimenticare quello che è un passaggio tecnico obbligato, nel senso che non dobbiamo aspettare nulla, solamente lo scorrere dei blocchi, che è l'alvin su Bitcoin. Qui su Coin360.com troviamo appunto BTC al più 4.18% rispetto al lunedì scorso ed Ether al più 3%. Questa è stata sicuramente la settimana di Solana, con Sol che fa vedere un più 56%, lo troviamo in verde scuro, ma non solo. Tra le varie monete in verde bello intenso ci sono anche quei token legati alla governance dei layer 2, in particolare Optimism, che fa ancora meglio di Sol. Questo perché? Perché arriva l'annuncio di Denkun e oggi ne parleremo. Andiamo su CoinMarketCap con una capitalizzazione che si alza a 1.66 trillions, con una dominanza di Bitcoin superiore al 50%, in questo momento quasi 51%, ed ETH al 16.4%. G-Way che finalmente, almeno il giorno di Natale, si abbassa un pochino a 17%. Abbiamo visto un periodo molto molto difficile per i costi transazionali sia su Bitcoin che su Ethereum, ed è questo il motivo principale per la riscoperta di alternative come Solana. Solana che sta performando davvero davvero bene. Fear and Greed Index a 74 su 100%, quindi c'è molta euforia, molta aspettativa per il 2024. Abbiamo anche un aggiornamento qui su CoinMarketCap che ci fa vedere la data dell'alving, quindi un countdown con 109 giorni rimanenti all'alving. Andando appunto a scorrere sul ranking, notiamo che con questo rialzo di quasi il 60% in una settimana, Sol sorpassa in una volta sola monete che in questo momento capitalizzano meno come XRP e BNB. Quindi proprio negli ultimi giorni c'è stato il sorpasso definitivo e anche abbastanza netto a livello di capitalizzazione sulla moneta di Binance. L'analisi sarebbe molto più lunga, ma appunto essendo questo un episodio molto veloce, la sintesi estrema è quella di avere un ritorno di interesse su tutto il settore, avere delle fiche si alzano molto sui punti di riferimento dell'intero mercato che sono Bitcoin ed Ethereum ed in particolare essendo Solana un'alternativa al mondo smart contract di Ethereum con i costi transazionali che si alzano sulla rete principale per smart contract, ovviamente c'è una riscoperta di alternative come appunto Sol, che poi ha visto il boom con il discorso dei Sagafon, con le meme coin, con gli airdrop, c'è tutta una questione di questo tipo. Ma come dicevo l'annuncio di Denkun e l'arrivo del prodotank sharding che vedremo tra un attimo ha fatto vedere un rialzo ancora più grande su token di governance di layer 2 come ad esempio Optimism che fa addirittura un 68% in 7 giorni portandosi a 3 dollari e 46. Di natura diversa perché sappiamo essere Ether e Sol monete per pagare le transazioni, quindi per pagare gli operatori che convalidano poi le varie transazioni nei blocchi e invece Optimism essere un token di governance. Di questo ovviamente ne parleremo tanto soprattutto l'anno prossimo anche per cercare di delineare sempre meglio come si sta strutturando tutto l'ecosistema. Andiamo velocemente nelle finestre temporali, visto che siamo a fine anno, troviamo un più 4.93% nel settimanale per quanto riguarda Bitcoin, un 14% nel mensile e finalmente l'annuale ci fa vedere quello che è lo specchio. Praticamente dell'anno 2023 manca una sola settimana, il prossimo Crypto Monday sarà il primo di gennaio 2024, quindi potremmo anche vedere quello ovviamente, ma già da qui vediamo un più 156% e questo è l'asset più performante del 2023 in assoluto. Quindi una volta ancora Bitcoin risponde a tutte le varie critiche che lo hanno dato per morto per l'ennesima volta, soprattutto nel 2022. Andiamo in analisi tecnica ma molto 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 velocemente su coppia BTC, USD, Coinbase. Come detto settimana scorsa, il prezzo entra in questa fascia di prezzo che va dai 40.000 ai 45.000, sta lateralizzando e dando il tempo alla media del prezzo di alzarsi verso un livello più alto e colmare quello che è il gap tra il prezzo attuale e appunto la media, quantomeno quella degli ultimi 50 giorni. Media degli ultimi 200 che rimane molto distanziata, visto la crescita che c'è stata soprattutto nell'ultimo mese, infatti troviamo una media a 200 verso i 31.000 dollari e una media a 50 giorni che invece si comincia ad alzare verso i 40.000 e questo diventa appunto un bel supporto, i 40.000 dollari, essendo sia un supporto psicologico che un livello che adesso fa vedere anche la media a 50 periodi. Probabilmente finiremo l'anno con questa situazione, quindi con un prezzo qui all'interno di questa fascia. Non sono nessuno per poter prevedere il futuro, ma se non dovessero arrivare appunto eventi sconvolgenti in questi ultimi giorni, dovremmo andare verso l'inizio dell'anno 2024. Con questa situazione poi tutto dipenderà da quello che si andrà a creare a livello sia di aspettativa verso un'approvazione e poi l'approvazione vera e propria. Come dicevamo con il professor Ferdinando Ametrano e l'ultima live di Coinsquare, l'evento dell'ETF spot è un qualcosa che è prezzato a metà, è prezzato dal punto di vista dell'aspettativa, quindi in qualche modo questo rialzo è stato dato da questa aspettativa, ma poi la domanda che effettivamente arriverà quando questi strumenti verranno approvati, quella non può ovviamente essere prezzata, perché è una domanda reale sul sottostante. Mentre invece quella che l'offerta la conosciamo, appunto l'Alvin diventa molto importante, perché va a dimezzare ulteriormente l'offerta di nuove monete, a quel punto si abbasserà 3.125 monete ogni singolo blocco, quindi ogni 10 minuti, comincia a diventare davvero poche. E qui su Glassnode vi faccio vedere la percentuale dei BTC, delle monete depositate sui exchange centralizzati, in questo momento il dato è tornato a scendere un pochino, siamo verso il 12%, comunque un livello molto molto basso, questo per vedere qual è il trend dell'offerta a disposizione. Sapete che molto spesso, ripetuto il termine supply shock, supply shock si traduce con questa cosa qui, ossia una disponibilità molto bassa delle monete in circolazione, solamente il 12% di tutte le monete minate finora disponibili all'acquisto, mentre invece arriverà in una sola mandata, quando verranno approvati gli ETF spot negli Stati Uniti, una grande domanda. Questo, soprattutto, un ritrovato interesse, una ritrovata euforia nel prossimo anno, se non ci saranno elementi esterni a disturbare questo interesse, porterà questo supply shock e un probabile rialzo dei prezzi in generale del mercato, cosa che avviene ciclicamente nel settore, che fa vedere quegli spike a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Tutto ciò non è scontato, non è dato per certo, ma ci sono delle probabilità molto alte. Tra l'altro, andiamo a trattare le tematiche principali per questo lunedì natalizio, che sono, appunto, la conferma che molti analisti aspettano l'approvazione dell'ETF addirittura al 10 gennaio 2024, e questo perché molte delle discussioni sono andate ad intensificarsi durante l'ultimo periodo, non si era mai vista un'attività così intensa per quanto riguarda questo strumento, tra la Security Exchange Commission e tutti coloro che stanno provando a ottenere un'approvazione, per analisti Bloomberg sembrerebbe comunque, appunto, essere alle porte, visto che è stato delineato anche l'ultimo aspetto, che è quello di andare ad avere una redemption in-kind o cash. Questa è stata la discussione, poi, portata avanti soprattutto da iShares Bitcoin Trust, con BlackRock, che con questo stratagemma e quella struttura che vedevamo appunto lunedì scorso, renderà possibile una redemption cash. Questo vuol dire che anche istituzioni come banche possono effettivamente offrire lo strumento, passando tramite una mediazione come quella di BlackRock, e poter poi uscirne direttamente in cash senza dover acquistare o vendere quello che è il sottostante. La sto semplificando di molto, ma il concetto è appunto questo, cioè renderà ancora più accessibile lo strumento ai vari player istituzionali. In molti stanno, dopo questo ultimo dettaglio, cambiando appunto la descrizione e l'application fatta alla Security Exchange Commission, qui abbiamo una tabellina di come al momento risulta la situazione. Ancora più interessante diventa quest'altra tabellina che ho trovato online. Qui non sono sicurissimo della fonte perché effettivamente sta girando, ma alcune date sono andate a controllarle, sembrano essere corrette. In ogni caso, quelle che ci interessano di più sono le prossime scadenze e siccome, come si può vedere forse poco, ma ve lo vado a commentare io, al 10 gennaio 2024 arriva la deadline finale per una approvazione, che è quella di ARK 21 Shares. E siccome ARK Invest è stata una delle più attive da questo punto di vista, sembrerebbe difficile che la Security Exchange Commission vada a rifiutare o a rispingere definitivamente questa proposta per poi arrivare a distanza di poco tempo ad approvarne altre. Perché sembrerebbe proprio che sia pronto un allineamento dove diversi strumenti verranno approvati insieme. E siccome al 10 gennaio c'è questa scadenza, potrebbero vedere il via libera anche altre situazioni insieme a questa ultima deadline. Come ad esempio proprio quelli legati a BlackRock, ma anche Beat Vice, VanEck, che vedono le loro scadenze quantomeno come terza deadline al 15 gennaio, 14 gennaio e poi vediamo che ce ne sono davvero diverse al 15 gennaio, come ad esempio anche Invesco e Wise. Poi abbiamo Valkyrie Bitcoin Fund al 17, Global X al 19 febbraio e al 31 marzo ce ne sono un paio. Tra l'altro la final deadline, quindi quella definitiva per quanto riguarda BlackRock, è al 15 marzo. Ma difficilmente appunto, secondo gli analisti, non secondo quello che dico io, si arriverà fino a marzo proprio perché prima ci sono altre deadline definitive, in particolare quella di ARK, che potrebbe far accelerare i tempi di tutte le altre. Quindi dovremmo essere alle porte. Di questo magari ne parleremo anche nel prossimo episodio o comunque a ridosso di questo evento, visto che ci sono almeno un paio di Cryptomanday da poter seguire. e con cui analizzare questa cosa. Notizia interessante, sempre su Bitcoin, che arriva dall'Argentina, è che il ministro degli affari esteri, Diana Mondino, comunica tramite X con un post, secondo la riforma economica che si sta portando avanti con il cambio di governo guidato appunto da Javier Milei, ci sarà la possibilità di risolvere qualsiasi tipo di contratto nel paese argentina utilizzando diversi tipi di moneta. è un po' il discorso che avevamo preso qualche live passata su Coinsquare in cui andavamo a spiegare di come effettivamente l'idea di Milei sarebbe quella di poter dare libertà di scelta sulla moneta da utilizzare in Argentina. Ed è questo il senso della cosa. Infatti si nomina anche Bitcoin come moneta per il settlement di contratti, ma non è l'unico. Infatti aggiunge che i contratti potranno essere risolti in Bitcoin così come a qualsiasi altra cripto, ma non solo, anche in litri di latte o chili di carne. Insomma, si darà agli individui la libertà di scegliere la moneta che si vuole utilizzare. Questo è un aspetto molto molto interessante perché poi effettivamente dando vita a un libero mercato di monete di questo tipo, sarà la popolazione stessa a scegliere quella che conviene di più utilizzare. Tra le altre c'è appunto anche Bitcoin. Sappiamo di come il nuovo presidente dell'Argentina sia favorevole a Bitcoin a livello filosofico, avendo definito già in passato un ritorno della moneta al creatore originale, ossia al settore privato. Come accennato appunto anche in apertura, la notizia importante arriva anche dalla seconda moneta, dal secondo asset più capitalizzato del settore, che è Ethereum. Infatti arriva l'aggiornamento più atteso dopo quello che ha portato la ProfoStake, quindi il passaggio dal mining alla ProfoStake su Ethereum, ossia Dankun. Aggiornamento, chiamato in questo modo, che comprende anche il tanto atteso proto-dank sharding, ossia una soluzione che andrà ad includere dei blob di dati nei vari blocchi che agevolerà soprattutto le transazioni sui vari layer 2 e sui vari roll-up, motivo per il quale token come Optimism e come Arbitrum hanno visto un importante rialzo nell'ultima settimana. In particolare Optimism perché questo aggiornamento si chiama proto-dank sharding, proprio perché proto è l'ideatore, ricercatore, sviluppatore di Optimism, è l'ideatore di questa soluzione proprio insieme a un altro sviluppatore, che è questo che stiamo vedendo qui in foto, Dankrad Fist. La notizia qual è, visto che comunque questa cosa già era attesa, è che finalmente arrivano delle date. Questo aggiornamento inizialmente nel roadmap era previsto per la fine del 2023, è stato posticipato, ma a quanto pare non di molto, perché il 17 gennaio arriverà finalmente nella prima testnet, ossia su Goerly. Dopo questa prodo, se tutto andrà bene, ci sarà il secondo passaggio su Sepolia, al 31 gennaio, e poi Olesky, la nuova testnet, il 7 febbraio. Sappiamo poi che Goerly diventerà obsoleta, sarà deprecata a breve, per lasciare appunto il posto a Olesky, quindi rimarranno Sepolia e Olesky. Dopo questi passaggi, se tutto andrà bene, ripeto questo è molto importante, anche gli sviluppatori stessi ovviamente ci tengono a ribadire che tutto dipenderà dall'outcome, da come queste testnet andranno poi a funzionare, come l'aggiornamento si comporterà in testnet, se tutto andrà bene, si procederà al lancio in mainnet di questo aggiornamento alla fine di febbraio. Quindi prima della fine del primo trimestre del 2024, potremmo vedere già il protodunk sharding rilasciato su mainnet Ethereum, questo vorrà dire un miglioramento sostanziale di tutti i costi transazionali, soprattutto sui vari layer 2 di Ethereum, quindi i vari optimistic rollup, i vari zero knowledge rollup, come ad esempio Optimism, Arbitrum, ZK, EVM, ZK, Synchera, Linea, eccetera, tutte queste reti che sono da ausilio, che sono praticamente un layer superiore ad Ethereum, che andranno a scaricare di molto a quel punto tutte le transazioni dal layer di base, perché non conviene più transare o operare sul layer 1, tutto si sposterà sul layer 2, mantenendo la sicurezza del layer 1, ma andando a far pagare dei costi transazionali, praticamente irrisori o in alcuni casi vicini al nulla, perché già ad oggi i costi transazionali sull'app di tipo ottimistico, come ad esempio Optimism, sono molto molto bassi, una singola transazione costa 1 o 2 centesimi di dollaro su Optimism, se questa dovesse migliorare di 10 o 100 volte, a quel punto parleremo non più di centesimi ma di millesimi e con un costo in millesimi diciamo che potrebbe anche essere non rilevante e cambiare tutto l'approccio al settore stesso, perché anche le applicazioni a quel punto potrebbero andare, grazie ad Account Abstraction, a sponsorizzare tutti i vari costi di rete e quindi l'utenza si troverebbe nuovamente ad operare su un web che non chiede più un costo, ma che utilizza degli strumenti più o meno decentralizzati con il vantaggio di non dover più fornire dei dati ai servizi che utilizza. Questa è una vera e propria rivoluzione nel web, per quello i molti la definiscono il passaggio dal web 2 al web 3. In chiusura, come notizia di pura cronaca, è stata confermata l'ammenda verso il CEO di Binance CC di 150 milioni di dollari di multa verso Binance che dovrà pagare 2.7 miliardi di dollari per concludere questa azione legale, questo processo che è stato portato avanti dalla CFTC e che aveva visto la prima sentenza a novembre. Adesso il 18 è stato deciso per questa conferma. Che dire, per oggi è tutto, sono andato sulle notizie più importanti, con l'occasione ho anche la possibilità di dare gli auguri di Buon Natale a tutti quanti essendo appunto il 25, probabilmente riuscirò a fare anche un aggiornamento al 1 gennaio, sicuramente torneremo con approfondimenti più verticali a partire dai prossimi episodi di inizio 2024, un anno davvero importante per il settore, probabilmente uno dei più importanti da quando Bitcoin nasce. Grazie a tutti, buon Uedì, Buon Natale e Buon Crypto Monday. Grazie a tutti, buon Natale e Buon Natale.